Dopo due anni di pausa, il brand del UFC torna sul ring e videoludico più forte che mai, con un quarto capitolo forse non rivoluzionario, ma che rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti rispetto al passato. La prima cosa che salta agli occhi di UFC 4 è l'assenza della modalità Ultimate Team. Privati della pesante responsabilità di dover replicare il vincente ecosistema multiplayer di FIFA, gli sviluppatori hanno finalmente potuto dedicarsi anima e corpo a ciò che in un titolo come UFC 4 conta davvero, ossia il gameplay, dando vita ad un'esperienza che, per quanto ancora lontana dalla perfezione, ci ha regalato più di qualche soddisfazione. Tutto però ha inizio con la creazione di un atleta, e qui avrete davvero l'imbrazzo della scelta. Attraverso un editor piuttosto ricco di possibilità avrete infatti il totale controllo su ogni più piccola caratteristica del vostro aspirante campione, dal look alla classe di peso, il tutto senza dimenticare, ovviamente, lo stile di combattimento, selezionabile tra 12 archetipi differenti. Le possibilità offerte sono notevoli e garantiscono di riflesso la massima libertà nella creazione del proprio atleta ideale. Se a questo aggiungiamo anche una progressione condivisa attraverso tutte le modalità di gioco, con una infinità di elementi sbloccabili, ciò che ne consegue è un senso di avanzamento tangibile e appagante. Aumentando il livello del vostro personaggio non accrescerete infatti solo le sue abilità, ma avrete anche l'occasione di mettere le mani su oltre 1600 pezzi di equipaggiamento differenti, che testimoniano il chiaro impegno da parte del team nell'offrire il maggior numero possibile di varianti. Le microtrasazioni non mancano, ma fortunatamente sono limitate a oggetti cosmetici e non hanno alcun impatto sulla qualità effettiva dell'esperienza. Tra le novità più gradite di UFC 4 c'è poi la rinnovata modalità carriera, forte di una struttura che, pur priva di chissà quale originalità, riesce a garantire parecchie ore di divertimento, grazie ad una formula tutt'altro che lineare. Una volta creato il vostro combattente sarete infatti chiamati a vivere una canonica scalata verso il successo, ma a differenza di quanto accaduto in passato, questa volta potrete condizionare in maniera evidente l'evoluzione degli eventi. Un inedito sistema di interazione vi permetterà di fare scelte che potrebbero alterare la narrazione e, cosa ancora più importante, vi darà la possibilità di instaurare amicizie o rivalità. La carriera non è tuttavia l'unica modalità degna di nota della produzione vista la ricca selezione di opzioni che compongono l'offerta ludica. Oltre a eventi e tornei offline personalizzabili nel dettaglio, UFC 4 offre infatti un vasto comparto online che saprà sicuramente stuzzicare tanto gli appassionati quanto eventuali neofiti. Oltre agli incontri veloci sono presenti sia le nuovissime battaglie blitz, ossia duelli molto brevi, caratterizzati però da regole sempre diverse, sia i campionati mondiali online che, grazie alla loro canonica struttura a stagioni, sapranno spingere la community a dare sempre il massimo nell'ottagono. Come accennato in precedenza, con UFC 4 il team di sviluppo non ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, ma ciò non toglie che anche in termini di gameplay il titolo abbia beneficiato di parecchie rifiniture. Per quanto il sistema di combattimento si confermi anche in questa edizione estremamente tecnico e dunque difficile da padroneggiare al meglio, non si può infatti negare come clinch e sottomissioni risultino ora molto più gestibili. Il rinnovato sistema che regola le fasi di combattimento a terra legato al costante utilizzo degli stick analogici garantisce infatti frangenti di gioco molto meno noiosi rispetto al passato e la fluidità che contraddistingue le varie transizioni contribuisce ad accrescere in maniera evidente anche la spettacolarità dell'azione. La possibilità di muovere la testa per tentare di sfuggire ai colpi del proprio avversario, unita alle continue opportunità di ribaltare la situazione attraverso una transizione, ha reso tutto più esaltante e intuitivo, specialmente durante i tentativi di sottomissione, garantendo un'esperienza complessivamente più accessibile già dei primissimi confronti. In ogni caso, i giocatori di vecchia data affezionati al sistema legacy, ossia il tradizionale metodo di presa a terra, avranno comunque l'opportunità di utilizzarlo anche in UFC 4. Al di là di questo, i combattimenti spiccano anche per un sostanziale aumento della loro spettacolarità, garantita da una fisica dei colpi sensibilmente migliorata rispetto al passato, che si traduce in momenti di grandissimo impatto visivo, soprattutto a ridosso di un knockout. E questo ci porta inevitabilmente anche ad una analisi di natura tecnica, in cui UFC 4 non denota purtroppo i passi avanti che avremmo sperato. Nel complesso infatti il titolo non evidenzia alcuna reale evoluzione, attestandosi su standard pressoché identici a quelli del suo predecessore, soprattutto per quanto concerne le texture. Le uniche novità degne di nota riguardano il sistema di illuminazione, capace di dare maggior risalto a sudore degli atleti e di accrescere il colpo d'occhio di molte arene attraverso una rifrazione più credibile della luce. In definitiva, pur non proponendo alcuna vera rivoluzione concettuale o strutturale, UFC 4 si dimostra un prodotto sorprendentemente solido, in grado di offrire un'esperienza appagante e soprattutto ricca di soddisfazioni. I margini di miglioramento sono di certo ancora tanti, ma il lavoro svolto dal team di sviluppo lascia senz'altro ben sperare per il futuro della serie.